Ciao, sono Sofia, lei è Maeva e io sono Beatrice. Oggi vi presentiamo il nostro gioco che si intitola Ludovico Ariosto. I materiali usati per farlo sono un dado più un dado di riserva, una clessidra che dura 10 secondi e dei foglietti di carta sopra delle scritte. Questa è la tabella dei punti. Si può giocare dai due ai tre giocatori. Allora bisogna prima prendere il foglietto e leggere la parte scritta mentre giriamo la clessidra. Quando la clessidra è finito il suo tempo giriamo e dietro si possono vedere delle domande. A ogni domanda sono corrisposte dei punti. In alcuni foglietti ci saranno delle domande che non arrivano a 6 ma solo 5 e se in quel caso il dado arriva a 6 bisogna ritirarlo. C'è il giocatore che ha più punti sulla foglia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!